Prosegue la campagna elettorale di Fratelli d'Italia in Calabria e dopo le diverse visite di Giorgia Meloni è stato il capo dell'organizzazione nazionale Giovanni Donzelli a proseguire il percorso che porta al voto di domenica prossima. Dal centro a destra trapela grande sicurezza circa l'esito delle elezioni, lo stesso digasi per la lista di Fratelli d'Italia ma rende e precisamente all'Università della Calabria uno dei punti chiave del dibattito è stata la sanità. La regione Lombardia non è in avanzo primario se uno guarda i numeri e se non ci fosse la migrazione sanitaria sarebbe in disavanzo e prende la migrazione sanitaria non soltanto della Calabria ma anche del Piemonte. Allora signora che alcune riforme fatte dal centro sinistra in passato come il titolo quinto della Costituzione per cui il DRG una volta lo pagava lo Stato all'Irlo Centrale e oggi invece c'è quasi un'attrazione dei malati per fatti economici oltre che di salute è un sistema che tu lo risolvi non soltanto con la Calabria che ha questo cane che si muore la cosa ma abbiamo il massimo delle tasse per la migrazione sanitaria, bisogna fermarsi e dire capiamo che succede. Io penso che una delle riforme importanti accettando anche la sfida del regionalismo differenziato proprio perché non mi sento inferiore ai Lombardi vogliono gestire le proprie risorse perché anche qui possiamo gestire da soli le nostre risorse se abbiamo un'idea o una prospettiva sul tema della sanità sarebbe ad esempio si potrebbe congelare sul piano del nuovo governo nazionale il pagamento del DRG, cioè significa che tu che sei malato, ti curi a Reggio, ti curi a Milano, paga sempre lo Stato. Il commissariamento se fatto così non serve può essere superato, un commissariamento può servire se ovviamente serve a cambiare qualcosa serve a poter incidere su quella che è la burocrazia, gli errori fatti ma se il commissariamento serve solo a tenere più fermo che la sanità e a limitare il merito ancora di più che la possibilità da parte della Regione di scegliersi la sanità forse è il caso di ridare alla Regione Calabria la possibilità di scegliersi la sanità ovviamente senza gli sprechi che abbiamo visto in questi anni per portare efficienza, per non premiare gli amici degli amici ma per premiare i più bravi.